Finisce senza vincitori ne vinti al Morgagni di Forlì dove la Vastese, autrice di un buon primo tempo, subisce il ritorno dei Romagnoli nella ripresa. Ne vie in fuori un 1-1 che muove poco la classifica ma permette agli aragonesi di tenere alle spalle una diretta concorrente per la salvezza. 4-3-3 per i due tecnici, Protti sostituisce l'infortunato Ferrario con Vesi in difesa e con Cortesi squalificato si affida al tridente composto da D'Angeli, Graziani e Ambrosini. A senza pesante in casa Vastese con Montani che è costretto a rinunciare al capocannoniere del campionato Vito Leonetti, a senza che si aggiunge a quella di Giampaolo, così Montani si affida al capitano Nicola Fiore e Conè che sostengono il riferimento avanzato Sciba. La Vastese approccia bene la partita al quinto rasoterra da fuori di Stivaletta che termina di poco al lato a cui fa eco la girata di prima intenzione di Sciba al quattordicesimo. I biancorossi abruzzesi cercano di fare la gara impostando il proprio gioco ma il Forlì chiude bene tutti gli spazi. Botta e risposta al trentaduesimo, l'ex capellupo mette in mezzo Cascione nel tentativo di liberare spedisce di poco fuori sul capovolgimento di fronte. Cenci va alla conclusione dal limite che deviata termina fuori di un soffio. Insiste la Vastese al trentanovesimo, punizione di capellupo e colpo di testa di Stivaletta, la deviazione centrale però è preda di Aglietti. La gara si sblocca al quarantunesimo, la Vastese recupera palla al limite della propria area di rigore e fa partire il contropiede. Scambio con Stivaletta, Fiore che con un preciso rasoterra supera Aglietti per l'1-0 ospite tra le proteste del pubblico di casa per la posizione del capitano aragonese. Immediata la risposta del Forlì che al quarantatresimo sfiora il pareggio da due passi con Cenci per poi concretizzarlo in extremis con il colpo di testa di Graziani che insacca sul primo palo il traversone dalla sinistra di Ambrosini. Si va così al riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa l'inerzia della gara cambia, il Forlì con il passare dei minuti cresce e prende in mano le redini della partita mentre la Vastese non è più lucida come nel primo tempo. All'ottavo Ambrosini ci prova da calcio piazzato spedendo alto e poi dalla grande distanza ma Patania è attento. Protti cambia modulo passando al 4-4-2 e gli aragonesi subiscono il ritorno dei Romagnoli. Al trentunesimo ancora l'ex Teramo conquista un buon calcio di punizione che però viene deviato in corner dalla barriera. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina Vesi va vicinissimo al sorpasso con Patania che si salva come può. Ancora apprezzione al trentasettesimo quando Sbardella devia in angolo la girata di Graziani e sugli sviluppi del corner la difesa va in affanno. Montani prova ad inserire forze fresche gettando nella mischia prima Ferrara per Conè poi Russo in luogo di Fiore ma l'inerzia non cambia. E al quarantatreesimo è ancora il Forlì ad avere l'occasionissima del 2-1 ma Del Sante in scivolata non aggancia di un soffio. Dopo 5 minuti di recupero la Vastese può così tirare un sospiro di sollievo. Gli aragonesi strappano un punto pesante in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Rammarico invece in casa Forlì per non essere riusciti a centrare l'intera posta in palio. Punto importantissimo perché li manteniamo a distanza dalla zona pericolosa. Per quanto riguarda la partita credo che la mia squadra abbia fatto un grandissimo primo tempo nella gestione della palla. E siamo stati un po' a fessacchiotte negli ultimi 5 minuti perché se andiamo dentro sull'1-0 poi magari può avere anche un epilogo diverso la partita. Fermo restando che poi nel secondo tempo sono venuti fuori loro però devo dire che la squadra ha retto bene e non è stato un calo fisico perché i ragazzi hanno corso. C'era la pressione del Forlì e in quel momento la posta era in palio e ci siamo messi dietro ad aspettarli. Tante difficoltà non direi perché penso che ci siamo spartiti i tempi. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita noi, probabilmente potevamo stare anche oltre l'1-0 perché loro non hanno mai trato in porto fino a quel colpo di testa e al gol. Sì è vero, conferma. Secondo tempo sono venuti fuori e abbiamo retto bene l'urto loro e quindi non solo con E, Fisci, Iba, Fiore ma io sono soddisfatto di tutta la prestazione dei ragazzi perché quando c'era da soffrire hanno sofferto. E purtroppo no, è un momento che va così. Secondo me abbiamo fatto uno dei secondi tempi sicuramente il più bello da quando lì nel Forlì. Grande prestazione, grande bevenza agonistica, abbiamo avuto non so quante palle e gol. Purtroppo è un momento così, nelle ultime due partite penso che Forlì meritasse sei punti e purtroppo ne ha fatti due. Abbiamo cambiato qualcosa dalle partite precedenti, poi bisogna che vi ricordi che avevamo Ferrario fuori, Cortesi fuori, Nigretti fuori e questi erano giocatori che non potevamo usufruire oggi. Abbiamo fatto un paio di cambi anche oggi, era la terza partita in una settimana, qualcuno si dimentica, io no, su un campo pesante che avevamo già giocato a Isernia. Io penso che abbiamo fatto un secondo tempo di qualità, di cuore, di testa, non mi ricordo un tiro in porta dalla squadra avversaria, noi non so quante occasioni abbiamo avuto purtroppo. Adesso gira così, ne dobbiamo prendere atto, riboccarci le maniche e ripartire ancora più convinti da martedì che con questa convinzione.